E Michele Canciani, qua con voi, con un bel applauso. Ci sono, ci sono. Stanno arrivando. Ancora un applauso più forte. Eccoli! Eccoli! E allora, un bel tango questa sera, passione, qui a Tricesimo, con un bel tango Roxanne, per voi, Michela e Michele. C'è un bel tango. C'è un bel tango. Cos'è un bel tango, non Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti